Musica Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Ci troviamo quest'oggi a Feltre dove incontriamo il sindaco Viviana Fusaro che saluto e ringrazio. Bentrovato. Buongiorno, grazie a voi e anche grazie dell'opportunità. Grazie a lei sindaco per il tempo che ci dedica per fare un po' il punto sulle tante attività che riguardano il suo comune, la comunità dei Feltrini. Partiamo però da un anniversario che siamo proprio lì in questi giorni, il suo primo anno di questo nuovo incarico. Che considerazioni possiamo fare? Insomma un po' di tempo è passato. Sì guardi, io esprimo tutta la mia soddisfazione per quest'anno di questo nuovo incarico, chiamiamolo così, perché lo ritengo un incarico di responsabilità. E mi ritengo soddisfatta perché a partire dal gruppo che abbiamo, che è un gruppo estremamente coeso, siamo riusciti già in un anno credo a svolgere una serie di iniziative che già per quanto riguarda il territorio sono abbastanza evidenti. Quindi siamo soddisfatti, lavoriamo bene insieme, per cui ritengo che anche da parte dei cittadini ci siano dei rientri favorevoli. Quali sono comunque i punti salienti del suo mandato? Cioè i punti sui quali lei principalmente vuole investire e dedicare attenzione? Beh guardi, noi siamo partiti inizialmente da vedere la città diversa e in che termini? Soprattutto in termini di accoglienza perché ci siamo occupati soprattutto in particolar modo all'inizio insomma della verde, del bellimento della città perché a nostro parere non era adeguata relativamente al fatto di avere tanti visitatori perché per fortuna dal punto di vista turistico abbiamo visto crescere anche la città e ci siamo occupati di questo, della viabilità subito all'inizio perché a nostro parere doveva essere più adeguata soprattutto per persone fragili o diversamente abili. Quindi la possibilità di accedere al centro storico dalla città e poi ovviamente tutto il discorso che riguarda lavori pubblici, sanità eccetera da portare avanti, da... Attenzionare, sappiamo che sono i temi caldi. Allora dato che comunque ha toccato la viabilità, Sindaco, c'è stato un cambiamento non di poco conto appunto lei diceva, si arriva comodamente anche in centro storico, quali sono state le impressioni, quali il dialogo comunque anche con i commercianti per esempio che sono i primi comunque interessati? Sì, guardi, per quanto riguarda i commercianti noi abbiamo un dialogo anche costante anche ora perché ci stiamo attivando con loro in sinergia per quanto concerne gli eventi estivi, autunnali, aperture dei negozi eccetera. Per quanto riguarda le viabilità noi abbiamo anche da questo punto di vista un riscontro positivo ovviamente purtroppo sappiamo che il problema del commercio esiste, la crisi perché ci sono altre fonti di acquisti però ecco diciamo che noi li vediamo anche spesso e così anche soltanto non in forma ufficiale magari passando negozi anche altri amministratori, assessori eccetera e riscontriamo una certa soddisfazione insomma. Il rapporto invece con la cittadinanza? Guardi, ecco io sono entusiasta di questo perché vedo che rispetto all'inizio quando magari le persone si presentavano meno presso i nostri uffici ora c'è veramente uno scambio, ci sono tante richieste di appuntamenti riusciamo a vedere tante persone e quindi vediamo un avvicinamento delle persone tra virgolette al colle ecco quindi una partecipazione più attiva delle persone alla vita amministrativa. Ecco, dato che abbiamo comunque introdotto anche un po' il tema del turismo le chiederei una riflessione su questo anche in vista di quella che è l'imminente manifestazione insomma una delle principali qui a Feltre, la mostra dell'artigianato naturalmente. Ecco, per quanto riguarda la mostra dell'artigianato innanzitutto un mio ringraziamento a tutto il comitato organizzatore, al presidente Gesiotto eccetera che lavora da anni perché è una figura storica insomma della mostra dell'artigianato. Il direttore Fabio Giudice, direttore artistico, guardi stanno lavorando già la città è molto in fermento, probabilmente lei avrà avuto modo di vedere per la preparazione della mostra dell'artigianato che è una mostra che ormai ha una fama di tipo nazionale e infatti tra gli espositori avremo tantissimi espositori da fuori città quindi ritengo che potrà attirare tantissime persone non solo dal Triveneto ma da ben oltre insomma. Siamo soddisfatti perché abbiamo riscontrato anche disponibilità da parte dei residenti in Centro Storico che ringrazio per l'apertura dei palazzi eccetera. Che è sempre una magia se vogliamo. È una magia perché poi è anche molto ricca di eventi, eventi anche nuovi, la novità importante secondo me riguarda il fatto che l'ente parco faccia parte attiva della mostra e quindi ci sono anche una serie di iniziative nuove che ci hanno dato molta soddisfazione. Noi abbiamo lavorato in sinergia, l'assessore Zatta ha partecipato a diversi incontri, e abbiamo messo a disposizione un funzionario del nostro Ufficio Cultura per poter avere appunto questo rapporto in sinergia con la direzione della mostra. Ecco questo per parlare diciamo dell'imminente però guardando avanti ad agosto c'è un altro appuntamento sicuramente di rilievo con il Palio. Ecco anche con il Palio guardi io per la prima volta l'anno scorso ho partecipato, è stata una forte emozione perché c'è una sostanziale differenza nella presenza da cittadino a primo cittadino e ho provato una forte emozione davvero perché poi vedere questo senso di appartenenza alla città di questi quattro quartieri che alla fine si si devono sfidare ma lavorano poi tutti insieme per realizzare questo evento ecco è qualcosa che dà soddisfazione sempre nel momento in cui tu vedi la comunità che lavora insieme e che lavora per un obiettivo comune quindi ecco anche da questo punto di vista ho provato davvero una forte emozione. Per quanto riguarda la mostra dell'artigianato anche perché chi è Feltrino riesce ad approfondire maggiormente attraverso la propria identità e l'appartenenza al territorio quello che può essere poi lo sviluppo e la concertazione con altri enti, con altre persone che non sono del territorio. Senta Fusaro adesso cambiamo tema la porto a parlare della sanità, sappiamo che la sanità di montagna è insomma sempre uno degli elementi che principalmente stanno a cuore ai cittadini si teme forse che ci possano essere magari anche delle sofferenze da questo punto di vista lei ha incontrato di recente anche il nuovo commissario Dalbenna, che tipo di interlocuzioni ci sono state, come sta la nostra sanità? Guardi io sono entusiasta perché devo dire proprio entusiasta nel senso che ho riscontrato nel direttore generale una disponibilità notevole, una conoscenza approfondita del territorio ed un'attenzione particolare proprio alla sanità di montagna. Lo sentiamo molto vicino e nel momento in cui abbiamo necessità ci ha dato subito la disponibilità di poter parlare con lui, di poter partecipare e condividere alcune scelte e già questo sta avvenendo. Io lo ringrazio davvero perché poi in sinergia con Belluno abbiamo degli obiettivi che sono gli obiettivi chiaramente di poter non solo mantenere ciò che c'è all'interno della nostra provincia ma di sviluppare ulteriori eccellenze e credo che con il direttore generale dottor Dalben si possa attivare un lavoro in sinergia, un'operazione di sinergia anche con questa risorsa che c'è lavorando con l'ULSE di Padova, quindi Padova sappiamo bene essere una clinica universitaria e credo che questa sia una risorsa, una grossa opportunità. Quindi un modo anche per cercare di far fronte a quella criticità che è la carenza del personale socio-sanitario, in particolare in modo medici ma anche appunto gli OS che si faticano a trovare e che la ripercussione poi è anche per le case di riposo. Esattamente, purtroppo ecco da questo punto di vista peraltro noi avevamo già attivato non appena eravamo stati eletti un incontro e delle sinergie con l'Università di Padova, avevamo parlato con il rettore per poter ampliare appunto la nostra facoltà di scienze infermieristiche a laurea magistrale e anche attraverso il dottor Dalben io ho parlato con lui anche di questo e credo che anche da questo punto di vista ci possa aiutare molto. Quindi una facoltà che se vogliamo porta giovani, porta persone che vengono anche da fuori e che devono però trovare un alloggio, la porta un po' sugli aspetti in odia anche che caratterizzano tutta la provincia, vero? Guardi, noi adesso stiamo cercando di capire come poter sbloccare alcune situazioni lavorando in sinergia con la regione perché abbiamo anche delle situazioni abitative che potrebbero essere sfruttate e che in questo momento non possono essere sfruttate perché o non sono di nostra proprietà oppure sono legate ad altre situazioni per cui stiamo cercando di realizzare degli incontri di modo tale da attivare delle convenzioni per poter utilizzare insomma queste abitazioni. E poi abbiamo tutto il discorso del campus là dove abbiamo l'università e quindi anche lì cercheremo di capire come poter sviluppare una zona chiamiamola di residenzialità per coloro i quali operano non solo all'interno dell'ospedale ma eventualmente anche a studenti universitari e ad altre persone che necessitano di avere alloggi parlo di insegnanti, parlo di studenti che potranno venire da fuori insomma ci sono tante persone che necessitano di venire a Feltre. Certo e poi magari anche gli operai, i tecnici specializzati perché comunque il vostro tessuto imprenditoriale insomma è molto ricco l'ambiente feltrino offre molto da questo punto di vista anche come fabbriche, come aziende. Ecco anche da questo punto di vista la ringrazio per questa domanda perché noi abbiamo attivato immediatamente dei rapporti molto stretti con le fabbriche che ci sono all'interno del nostro territorio a partire dall'Exidro, la Clivet con le quali abbiamo un rapporto costante anche per quanto riguarda l'impiego di operai, di tecnici eccetera e c'è un'estrema disponibilità anche eventualmente per quanto riguarda il discorso degli alloggi quindi c'è una sinergia anche stretta con tutto il mondo imprenditoriale. Senta Fusaro, cambiamo argomento, adesso l'anno scolastico è finito da poco lei ovviamente da insegnante dirigente scolastico, ex dirigente scolastico sa bene, conosce bene il mondo della scuola la vorrei portare sulla questione calda di questi giorni l'istituto superiore, l'ITIS Negrelli in particolar modo c'è un importante piano di aggiornamento, di evoluzione di questa realtà che però ci sono state delle criticità forse da affrontare? Sì, noi riteniamo che evidentemente è un PNRR della provincia come lei pensa, insomma l'edizia che riguarda la scuola secondaria del secondo grado appartiene di pertinenza della provincia insiste chiaramente sul comune di Feltre a nostro parere non è una critica nei confronti evidentemente né dei progettisti né di altri è certamente un progetto di eccellenza una scuola di eccellenza qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che nel momento in cui si abbatterà l'istituto evidentemente necessiterà sistemare gli studenti da qualche altra parte l'istituto è un istituto tecnico ha diversi indirizzi e quindi questi studenti necessitano di laboratori specifici per cui la preoccupazione è questa ci garantiscono un'operazione che si svolgerà a Stralci da dove ci si dice che gli studenti potranno permanere all'interno dell'istituto io ho molte perplessità da questo punto di vista mi auguro davvero noi faremo di tutto perché l'impresa ecco seguiremo costantemente i lavori però riteniamo anche che come progetto ad esempio per quanto riguarda le palestre attualmente presso l'ITI ci sono due palestre ci sarà una sola palestra e per noi da un certo punto di vista rappresenta anche un impoverimento insomma all'interno della città poi certamente ci auguriamo che anche un nuovo istituto possa accogliere più studenti ecco c'è comunque una preoccupazione di fatto e quindi la situazione rimane sott'occhio insomma attenzionata e dobbiamo attenzionare in un modo di vista e parlando ancora dei lavori pubblici non necessariamente l'edilizia scolastica che cosa c'è? ovviamente il teatro della Sena per esempio ecco per quanto riguarda il teatro della Sena tutti i cantieri che erano aperti qui in centro storico noi abbiamo ripreso in mano immediatamente da quando ci siamo insediati tutto perché avevamo trovato le imprese ferme abbiamo riattivato tutti i rapporti e quindi i lavori sono ripresi adesso per quanto riguarda il teatro noi veramente speriamo che per la fine dell'anno si possa riaprire abbiamo anche delle garanzie da parte dell'impresa che è costantemente attenzionata e c'è la collaborazione in particolar modo io devo ringraziare l'assessore Bona perché segue tutti i cantieri costantemente la sua presenza è proprio assidua ed è una presenza importante tutti i nostri tecnici per cui ecco adesso ad esempio abbiamo terminato i lavori a Palazzo Gazzi speriamo che poi qualcuno sia interessato per un'apertura di un ristorante eccetera di modo tale che nel momento in cui tutto si conclude ci possono essere tutti i servizi che siano adeguati per le persone che vorranno venire non solo a visitare ma a partecipare insomma alla prima del teatro ecco questo è il grande auspicio ovviamente dato che ha citato anche l'assessore Bona l'assessore che segue per esempio da vicino i lavori al Palaghiaccio di Feltre sì guardi l'assessore Bona io vorrei anche precisare questo che tutti gli assessori alla fine tutta la giunta lavora in sinergia perché sono presenti quando si parla di turismo e sport sia l'assessore Zatta che l'assessore della Palma se si parla di lavori pubblici sono presenti l'assessore Bona l'assessore Zatta l'assessore Pei in Corbitt ecco c'è una condivisione di tutte quelle che sono le problematiche oppure le opportunità meglio che abbiamo all'interno della nostra città questa sinergia evidentemente ci conduce a lavorare più velocemente più velocemente perché tutti collaborano nelle realizzazioni di determinate opere pur nella specificità del loro assessorato ecco per chiudere sul Palaghiaccio guardi sul Palaghiaccio noi siamo soddisfatti perché chiuderemo le opere che erano previste abbiamo già una struttura che è di rilevanza che attira tantissime persone e quindi ci sarà questo miglioramento della struttura che senza ombra di dubbio insomma necessita soprattutto anche in vista di quello che avremo per fortuna all'interno della nostra provincia con le Olimpiadi e le Paralimpiadi è il grande evento all'orizzonte Sindaco io avrei ancora tante domande da farle ma vedo che il nostro tempo ormai è finito quindi le rimandiamo alla prossima occasione grazie per la sua disponibilità grazie a loro grazie agli spettatori e buon lavoro e a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci